segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te san martani san martino insomma questa via ci sono stati sei accoltellamenti una settimana fa è normale milano è bella da dio è un gioco di parole la pagina è diventata famosa per i problemi di insicurezza milano diciamo che con milano bella da dio io ho scoperchiato un po tanti problemi che in città c'erano che magari erano silenti per quanto riguarda i borseggi è nata l'esigenza da parte dei cittadini di milano di filmare ogni giorno che io vado in quasi qualsiasi fermata della metropolitana io le trovo adesso se noi andiamo in duomo te le faccio vedere e ma dove le avete viste qua stavano scendendo e andranno verso la gialla ho visto tantissima polizia oggi mi piacerebbe che fossero ogni giorno perché comunque servono di chi di chi delle fagiule e quando ho fatto un po di passi l'accompagniamo noi non sono arrivata all'altro allora non c'erano più e io non avevo più il portafoglio con detto io amo la mia città però è cambiata è la prima volta che a quest'ora non le vedo in duomo andiamo sopra perché molto probabilmente sono lì mi ricordi a lei stavate facendo stavate accertando lei meno male che sono arrivato